2 giugno 2024 continua la mobilitazione per una legge giusta e necessaria che attendiamo da 14 anni per continuare a garantire i servizi di balneazione a tutti i cittadini italiani. L'iniziativa della Federazione Italiana Impresa Balneare e del Sindacato Italiano Balneari in occasione della Festa della Repubblica, non una provocazione ma una forma di protesta dei balneari abruzzesi nei confronti delle prossime gare di appalto per le concessioni demoniali imposte dalla direttiva Bolkestein. La dimostrazione è che questa iniziativa di protesta riscosso un grande successo è l'adesione massima. Nessun balneare ha rifiutato di affiggere nel suo stabilimento questo volantino. Siamo convinti che in questo weekend saranno tanti clienti e anche i turisti che leggeranno questo foglio e rifletteranno su quello che sta accadendo. Così il presidente della Siba Abruzzo, Riccardo Padovano, che esprime la sua soddisfazione per la partecipazione praticamente all'unanimità dei balneatori abruzzesi. Ci scusiamo col presidente Mattarella e tutta la comunità italiana, però vogliamo richiamare l'attenzione della politica che in questi mesi è troppo dormiente e ha messo in crisi tutto il settore dell'impresa balneare. Senza che ci sia un intervento governativo e una legge di riforma, una legge subito per quanto riguarda le concessioni demoniali, dobbiamo purtroppo stare lì in attesa perché ci troviamo di fronte a un meccanismo confusionale istituzionale e chi ne paga le conseguenze siamo noi piccoli imprenditori. Dobbiamo affrontare una stagione senza una legge chiara, limpida e trasparente, rischiamo di fare una stagione con tensioni e molto probabilmente se dovremmo fare degli investimenti ci rinunciamo. Per fare 100 giorni di attività lavorativa piena abbiamo bisogno noi di lavorare almeno 8 mesi e quindi ci spiace che la politica si sia fatta influenzare dai facinorosi dove persone continuano ad insultare le nostre imprese. Veramente ci dispiace e credo che la politica in questa settimana debba riflettere. Padovano ribadisce ancora una volta come sia necessaria una legge. Noi vogliamo una legge giusta, una legge che riconosca gli stabilimenti barrenali che se domani ci dovrà essere un'evidenza pubblica e quindi si va a gara, vogliamo che ci venga riconosciuto il giusto indennizzo perché in quel tratto di spiaggia noi abbiamo costruito un'impresa, abbiamo fatto degli investimenti su proprietà che sappiamo che non è la nostra proprietà però li abbiamo fatti. Grazie ai nostri investimenti abbiamo dato una ricchezza sul territorio in termini di assunzione, in termini di pagamento di tutti quelli che sono i servizi ma diciamoci una grande verità, una spiaggia senza servizi diventerebbe una spiaggia abbandonata. Basta noi vedere dei 130 km di cui solo 30 km sono occupati dalle concessioni dei maniali vediamo il resto quanti pochi servizi ci sono. Grazie.